Mi accerco, vedana di madre. E' troppo valida, vado al branco, il segno. E' in particolare. Hai fatto? Dimanico, dai. Vuoi il peso e il tirane? 4 3 5 6 8 8 9 10 10 11 13 14 14 15 15 16 16 16 18 18 19 19 19 20 19 20 20 20 21 22 22 provata ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.